Salve a tutti e benvenuti in questo video di Top Farmer. Oggi parliamo del confronto tra due trattori, il Fendt Vario 314 contro il Same Virtus 135. Spero che 6 piaccia al video. In tal caso mettete un mi piace e commentate con il trattore più forte. Se avete in mente delle sfide da proporre scrivetelo nei commenti. Iscrivetevi e supportate in ogni modo il canale. Vi ringrazio. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti